«O Dio! Tu hai guidato San Francesco Caracciolo sulla via della perfezione. Nell'umiltà e nel servizio verso i fratelli. Sostenuto da una profonda fede. E ferma speranza nei meriti infiniti del suo figlio, morto e risorto. E nella forza trasformante del pane eucaristico. Fa che riscopriamo l'importanza di fissare lo sguardo sul Cristo crocifisso. E la necessità di ricorrere alla forza del sacramento dell'Eucaristia. Affinché, fortificati dalla tua grazia, possiamo divenire buon samaritano per tutti i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. Lungo il cammino, ci prenda per mano la Beata Vergine Maria. Che San Francesco Caracciolo tanto amò e di cui sperimentò la potente protezione. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.